Buonasera, buonasera dalla redazione, da TCS, Dere Costa Smeralda e il Magazine. Ricordiamo quest'estate, è stata l'estate, il gioco di parole è evoluto, a quella del personale introvabile tra resort, hotel, ristoranti, insomma il settore turismo. Beh, la regione promuove un ciclo di incontri nel territorio per mettere in contatto lavoratori e imprese. Andiamo a vedere. È stata l'estate del personale introvabile tra resort, hotel e ristoranti. Quest'anno il fabbisugno di addetti del settore turismo ha superato l'offerta e l'industria delle vacanze è andata in crisi proprio per la mancanza di camerieri, metri, cuochi e altre figure specializzate in un comparto che tra effettivi ed indotto incide il 7 punti percentuale sul pil dell'isola. La carenza di stagionali e le difficoltà di reclutamento hanno compromesso la stagione, premiata sì dai numeri record dei turisti che hanno scelto la Sardegna come meta preferita per trascorrere le loro ferie, ma penalizzata dall'insufficiente forza lavoro qualificata per soddisfare le esigenze della clientela. Allora meglio correre ai ripari e incoraggiare l'incontro tra domande e offerta, meglio se favoriti dalla regione che nelle prossime settimane organizzerà il Job Day Sardegna, un ciclo di eventi nel territorio dedicati da un lato a chi cerca un'occupazione, alla scoperta delle proprie attitudini e competenze, e dall'altro a chi la offre, le imprese, usufruendo di un servizio di preselezione messo a disposizione gratuitamente dall'Aspal. Il lavoro in Sardegna c'è, l'abbiamo sentito tante volte, sono alla ricerca di personale, ma stranamente non si trova. Ebbene, se noi abbiamo la possibilità di creare degli eventi che facilitino questo contatto tra imprese, tra il mondo proprio del dato reale, di quelli che il lavoro possono darlo, e anche le istituzioni che possono promuoverlo, ed il mondo della disoccupazione, cioè quello dei giovani entusiasti formati e quello degli disoccupati comunque da formare, questo sarà un momento molto positivo perché il lavoro si incontra. Gli appuntamenti organizzati dall'assessorato regionale del lavoro in collaborazione con l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro sono sei, tutti concentrati nei prossimi due mesi. Quindi si parte da Sassari il 2 febbraio e poi a seguire Oldia, Nuoro, Oristano, Tortoli e infine ultima tappa il 30 e il 31 marzo a Cagliari. I sei eventi che per tutta la Sardegna porteranno questa promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro sarà molto importante e hanno aderito già talmente tante imprese e talmente tanti giovani dell'Agenzia di Formazione delle scuole. Quest'anno ci sono anche le scuole superiori e non solo, e le università naturalmente che sono le nostre magnifiche agenzie formatrici di alta formazione. Ebbene sarà molto più facile per la Sardegna capire quale sarà il suo futuro attraverso appunto il lavoro dei disoccupati che non dovrà più essere così. Turismo è capitolo neve, siamo andati questa mattina alla Protezione Civile che sta monitorando e che raccomanda anche ai turisti tutta una serie di cose, tra l'altro la Protezione Civile sta osservando anche altri fenomeni. Andiamo a vedere. Una sala operativa, quella della Protezione Civile impegnata a monitorare tutto e tutti, oggi una squadra attenta a ogni singolo dettaglio, bollettini di monitoraggio ogni tre ore pubblicati sul sito istituzionale, non solo la neve, nel Nuorese, Desulo, Fonnica, voi, Ollolai, Lanusei, Villa Grande, scuole chiuse. I tre fattori all'ordine del giorno riguardano anche la pioggia e il rischio idrogeologico e anche la cabina di regia qui è pronta e veloce nell'analizzare i dati pluviometrici e idrometrici. Attenzione anche alla situazione delle dighe, insomma un lavoro corale, quello della Protezione Civile, che già a ottobre aveva aggiornato il piano riguardante il capitolo neve. Neve, che a parte i disagi, richiama subito la classica gita fuori porta, magari con qualche insufficienza di troppo o superficialità e qui in questo caso, turisti a parte, la prudenza e l'attenzione a questo fenomeno nuovo, strade ghiacciate in primo luogo e traffico e automobilisti, poco avezzi alle condizioni meteo, diverse dal solito, potrebbero creare e trovare qualche imbarazzo, per usare un eufemismo. Bene, quindi, la trasferta a Fonni è nelle piste, ma con tanta, tanta prudenza. Turisti già pronti, hanno visto le previsioni meteo, magari solo la neve e andranno a cercarla? Sicuramente questo fine settimana ci sarà un esodo verso Fonni e le zone più innevate, quindi raccomandiamo la massima prudenza, catene a bordo e il minimo le gomme termiche. Invece la situazione di queste 48 ore come si sta svolgendo? Abbiamo registrato parecchie criticità che riguardano più che altro l'interruzione delle cabine di energia elettrica di Terna, che però sono state prontamente sistemate da Enel, avevano già all'interno del piano neve predisposto dei generatori sul posto e quindi hanno comunque azzerato le tempistiche di intervento. Ora sappiamo che stanno attivando un generatore da 1 MW che alimenterà Arizzo, Tonara e Belvì. Al sud Pula un po' più colpita rispetto ad altri paesi? Sì, in parallelo abbiamo avuto dei problemi che riguardano sia il dissesto idrogeologico, abbiamo registrato qualche frana nelle zone interne, sia dal punto di vista idraulico, perché abbiamo dei corsi d'acqua che si sono comunque ingrossati abbondantemente, alcuni allagamenti su Pula e anche nella parte del rio Mogoro che ha comunque delle soglie idrometriche abbastanza alte. A oggi possiamo dire una situazione sotto controllo? Sotto controllo dal punto di vista del sistema di protezione civile, uomini e mezzi sono già preallertati da giorni, quindi i comuni hanno dato una grossa risposta alle comunità e soprattutto i sindaci che sono in contatto con la nostra sala operativa. Da quanto tempo non esisteva il piano neve? Così vada a memoria un paio d'anni, tre, quattro? No, diciamo che il piano neve esiste sempre, però va aggiornato, noi lo aggiorniamo di solito ad ottobre, non ne diamo mai notizia, però di solito in tempo di pace si lavora proprio per non trovarsi impreparati. Non ci troviamo impreparati, a Desulo il blackout mette in ginocchio il turismo di montagna, ovvero ristoratori e albergatori che già da oggi e per tutto il weekend avevano registrato il pianone proprio per la neve. Gianni Casula del ristorante Gianna Argento ha spiegato a Lanza, abbiamo prenotazioni per tutto il fine di settimana e non possiamo nemmeno avvisare i clienti che siamo impossibilitati a lavorare perché le linee telefoniche non vanno per niente. Poi aggiunto non abbiamo corrente elettrica, abbiamo già anticipato un sacco di soldi per dotarci delle provviste in cucina per il weekend, perderemo tutto e conclude non ci si può riempire la bocca di turismo montano e poi lasciarci così. Ancora mal tempo che non dà tregua neanche nel sud dell'isola dove le temperature sono in calo e continua a piovere, è chiusa la strada intercomunale Mandar-Gergei, nel Sassalese invece ha causato un guasto della linea elettrica dell'impianto di sollevamento dei pozzi di Mandras al servizio della frazione di Campanedda. Sono in corso ancora le verifiche. Insomma, turismo montano è ancora tutto da capire, a questo proposito, sempre legato al turismo, le infrastrutture, Nuoro continua ad essere il capoluogo più isolato d'Italia, escluso dalla rete ferroviaria. Andiamo a vedere. Capoluogo di provincia in tutta Italia a non essere ancora dotato di una linea della rete ferroviaria nazionale. Ed è proprio per questo motivo che il sindaco Andrea Soddu ha scritto una lunga lettera al vicepresidente del Consiglio dei Ministri, nonché attuale ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Esclusa dalla ferrovia nazionale a scartamento ordinario, attualmente la città è servita unicamente da una linea regionale a scartamento ridotto, che risale all'Ottocento, totalmente obsoleta e con tempi di percorrenza non all'altezza delle attuali esigenze di trasporto merci e passeggeri. Così è iniziato il sindaco Soddu, aggiungendo poi che la realizzazione di una ferrovia moderna che colleghi il capoluogo a porti, aeroporti e agli altri territori dell'isola aprirebbe il centro Sardegna al resto del mondo. Un'occasione che il primo cittadino definisce un'eccezionale opportunità per invertire la curva economica e di conseguenza anche quella demografica. In allegato anche la scheda del progetto, composto di tre fasi di intervento, tra cui la realizzazione del nuovissimo collegamento Nuoro-Siniscola-Olbia. Ma fra tutti il primo e più importante passo resta la riqualificazione della tratta ferroviaria esistente, che raccordi Nuoro con la ferrovia a scartamento ordinario gestita da RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Un intervento che potrebbe essere realizzato anche velocemente perché da agganciare all'esistente. Tra progetto, approvazione ed esecuzione dell'opera, i tempi di realizzazione sono stimati in meno di 5 anni, con un costo di circa 114 milioni di euro, 55 chilometri in tutto. Una battaglia di civiltà portata avanti da un intero territorio che chiede solo ciò che gli spetta, il diritto alla mobilità che oggi non è garantito. Così il sindaco del capoluogo si è rivolto al ministro, che dopo l'incontro del 17 novembre scorso con il presidente della regione Cristian Solinas, aveva mostrato il suo interesse per la disastrosa condizione dei trasporti nell'isola. Ma intanto, nell'attesa di un riscontro, Nuoro resta isolata. E a Carbonia torna la Grande Prosa. Andiamo a vedere. Un viaggio nei labirinti della mente e del cuore umano con la stagione 2022-2023 della Grande Prosa, musica e danza organizzata dal circuito multidisciplinare dello spettacolo Dal Vivo in Sardegna e ospitata al Teatro Centrale di Carbonia, con un ricco programma di proposte e nove titoli per dieci recite da febbraio a maggio. La ripartenza con una stagione teatrale importante, quella del CEDAC, grazie a CEDAC, grazie a Regione Sardegna, grazie al Comune di Carbonia, dal 4 febbraio sarebbero presenti in città nel nostro teatro una serie di appuntamenti che consentiranno alle nostre cittadine e ai cittadini dell'intero territorio di poter rivivere un luogo che è diventato un luogo fondamentale per l'incontro, la socializzazione e la cultura del nostro territorio. Sono molto contento di poter annunciare anche i lavori di efficientamento energetico nel nostro teatro, la valorizzazione e la manutenzione di un bene che è un bene della comunità e dell'intero nostro territorio. Saranno il cartellone, un cartellone come sempre molto importante, ormai da decine d'anni CEDAC aiuta a rendere il nostro territorio più accogliente dal punto di vista della socializzazione e quindi non possiamo far altro che invitare le nostre cittadine e i cittadini a partecipare. Dopo una stagione come quella pandemica che ci ha allontanato da un luogo che in realtà è il luogo nel quale logicamente le persone si ritrovano e possono scambiare idee, opinioni e talvolta ridere e qualche volta anche piangere. Un cartellone che affronta temi importanti attuali, dal rispetto dell'ambiente al ruolo e alla condizione della donna nella società, dalla libertà di amare e seguire le proprie inclinazioni alla ricerca della propria identità, tra un affresco del bel paese negli anni 60 e 70 e un'indagine sulle radici della violenza e dell'odio tra antichi e nuovi delitti. Oltre ad un tributo al grande compositore argentino, inventore del tango nuovo in una programmazione ricca e variegata che spazia fra teatro, musica e danza, mettendo l'accento su intrecci e contaminazioni tra le diverse arti, secondo la mission del circuito multidisciplinare che promuove la diffusione della cultura e dei linguaggi della scena. Tra le novità, il progetto di una residenza artistica per un lavoro di studio e documentazione, con il coinvolgimento degli abitanti in una ricostruzione della storia dell'antica zona mineraria, in modo da restituire, attraverso le testimonianze dei protagonisti, la memoria viva dei luoghi. L'offerta è tra le più varie riletture di classici e testi di autori contemporanei, accanto a raffinate intriganti coreografie e intrecci di parole note. Tra i protagonisti, artisti del calibro di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, registi e interpreti, l'ecletico attore, comico e musicista Stefano Masciarelli, in scena con Fabrizio Coniglio, e ancora il regista argentino Cesar Bri e l'attrice Chiara Murru, il geologo Mario Tozzi, il jazzista Enzo Favata, il Balletto di Roma e la compagnia Opus Ballet. È un cartellone, come sempre, molto composito da un punto di vista, diciamo, degli stili, dei generi e degli artisti che presentiamo e che saranno, appunto, calpesseranno il palcoscenico di Carbonia. Iniziamo con Tozzi, Favata, che presentano il loro ultimo lavoro, Uomini e Virus, e proseguirà nell'arco fino a maggio con diversi appuntamenti, tra cui ricordiamo il Balletto di Roma, che presenterà il suo lavoro su Astor, dedicato, appunto, a Piazzolla, con musicisti dal vivo, l'uomo ideale con Montedoro, che sicuramente è una commedia molto brillante, che richiamerà tanto pubblico trasversale, ma anche il ritorno di Cesar Bri, che ci offrirà una deliziosa commedia tutta al femminile. Bene, io termino qua, vi do appuntamento con le prossime edizioni del nostro magazine, per chi non c'era, ma visto il freddo, magari c'è qualcuno che ci sta osservando e ascoltando bene, insomma, comunque, per chi non c'era, c'è la nostra piattaforma social, il sito tcs.tv, Facebook e Instagram, anzi, ne approfitto, mandate le foto anche della neve. Alle prossime edizioni, grazie. Grazie a tutti.